Musica Benvenuti nella resegna stampa di oggi martedì 11 aprile Benvenuti a tutti cari telespettatori di Fano TV in diretta 7.30 Buongiorno anche a chi ci segue in replica Allora il santo del giorno subito con la grafica Oggi è San Stanislao, Vescovo, il sole è sorto alle 6.31 Tramontanale 19.47 minuti Il tempo sarà buono nei prossimi giorni Allora subito la prima pagina del Corriere Adriatico Con il titolo d'apertura, l'ospedale sorvegliato speciale a Pesaro La direzione chiede sicurezza a confronto con la polizia Convocato dai vertici sanitari Naturalmente tutti ancora hanno in mente quello che è successo nei giorni scorsi Dove un uomo è entrato con una spada, un katana E ha tentato di farsi giustizia da solo E da quell'episodio adesso si chiede chiaramente un po' più sicurezza Come per esempio quello di, di nuovo, mettere un posto di polizia Dentro l'ospedale San Salvatore di Pesaro Intanto l'assalitore, quello che appunto un po' il ticcio è andato con questa spada A farsi giustizia da solo Dentro l'ospedale resta in carcere Resta in carcere Ma a centro pagina, guardate qui la follia L'ultima follia dei giovani Dopo i selfie, le fotografie scattate sui binari Mettendo a rischio la propria vita Guardate che cosa fanno adesso Guardate che cosa si sono inventati Questo ragazzo attraversa la strada con un sacchetto di plastica in testa Avete capito bene Si gioca alla roulette russa in mezzo al traffico E guardate che cosa c'è qua Una macchina Una macchina che arriva E lui che sta lì in mezzo alla strada Attraversa la strada con una busta in testa E la sfida per non essere travolti Questa è l'ultima follia Dei giovani Giovani che però Quando andiamo a vedere Pagine Qui siamo sulla prima pagina del resto del Carlino Affollano Affollano il Affollano il palazzetto dello sport Per ascoltare Uno scrittore come Saviano Che parla di legalità Di giustizia e quant'altro Allora lì un po' di speranza in più ci torna Comunque centinaia di studenti Agli incontri con Saviano Ripagato di tanti sacrifici E gratteri Attenti a chi fate entrare nelle scuole Due personaggi Due appuntamenti importanti Con tantissima gente Sul resto del Carlino Si parla poi della festa della polizia Ieri c'è stata la festa della polizia Al Teatro della Fortuna Dello spacciatore Di uno spacciatore Che finito nella rete Aveva messo dello stupefacente Dentro un panino E poi la morte di Laura A Gallo di Petriano Ha messo la comunità a dura prova Dice il parroco appunto Del paese E poi una curiosità Che vedremo tra un istante Eccola qua L'apertura della Pinacoteca di Fano Che slitta Perché si litiga Sul colore delle pareti Allora andiamo qua A vedere proprio Questo caso Sul colore delle pareti Questa lite Sul colore delle pareti Di cui parla il resto del Carlino L'apertura slitta Di 20 giorni I soprintedenti Sono in disaccordo Il museo chiuso Per le festività pasquali E questo è l'interno Nella fotografia Vedete l'interno Della Pinacoteca Oggetto di restauro Sopra nel tondo La fotografia Dell'assessore Stefano Marcheggiani Tinta grigia Oppure ocra Questo è il dilemma Alla fine la parola Passa ad Ancona Meglio il colore tortora Questa hanno tagliato corto E questa è la notizia Sulla prima pagina Del resto del Carlino Poi dicevamo di questa rosetta Stupefacente Rosetta il panino L'eroina infatti Era occultata All'interno del panino In questi giorni Le forze dell'ordine Sono alla ricerca Dell'omicida slavo Igor I carabinieri Hanno arrestato Un algerino Alla stazione Del treno Poi si parla Della fiera di San Bartolomeo Quella che si tiene In agosto A Fano Perché domani C'è un incontro Tra gli amministratori E gli albergatori E si sta parlando Si sta discutendo Sul fatto di poter portare Un pezzo di questa fiera Di San Bartolomeo In centro storico Dunque La domanda è La fiera di San Bartolomeo A Fano Verrà spostata dal mare Dalla Sassonia Al centro storico Lo sapremo Soltanto nei prossimi giorni Intanto da San Costanzo Il regista Sorcinelli Punta Su casi E vola Il regista San Costanese Scusate San Costanzese Ai nastri d'argento Con la star Del suo corto Mentre Del suo corto Inteso come film De Angelis Sotto la politica Rifiuta la candidatura Non sarà lei L'anti Aguzzi Quindi non sarà Deborah De Angelis Il candidato sindaco Di Colli al Metauro Contrapposto a Stefano Aguzzi Come anticipato Dal giornale Nei giorni scorsi La De Angelis Era stata scelta Per guidare Le forze di centro-sinistra Nella competizione elettorale Del prossimo 11 Di giugno Vuole i soldi Prende a testate Il padre Quando la famiglia Diventa un incubo In questo articolo Di Damiani Ci sono tre storie Tre storie Davvero Che mettono tristezza Tre storie Dove la violenza È dentro la famiglia Dove in realtà Dovrebbe regnare La pace L'unione E in realtà Non è così In questo articolo C'è per esempio Anche il racconto Di questo papà Questo padre Di 85 anni Che è dovuto andare All'ospedale Perché E poi Dai carabinieri Per presentare Una querela Contro il figlio Che lo aveva preso A testate Lo aveva fatto Crollare A terra sanguinante Tutto questo Da anni Da anni Che Si porta dietro Questa vicenda Da anni E loro dice Il padre dice Non ce la facciamo più A sopportare questo inferno Il samurai Questo 45enne Di origini Campane Però a Pesaro Da molti anni Che l'altro giorno Appunto Entrato in ospedale A San Salvatore Con questa Sciabola Con questa Spada Il caso Catana Resta in carcere Lui dice Giustificandosi Davanti al GIP Ho reagito Ad un'ingiustizia Martino Tagliamento Questo è il nome Ha fornito dunque La sua versione Torniamo al Corriere Adriatico Le altre pagine I teppisti La pagina di Fano Teppisti contro le auto In sosta Residenti Sempre più Esasperati Sabato notte Successo in Via Nolfi In centro Terra di nessuno Schiamazzi e vomito Sugli usci di casa Non ci sono dei testimoni All'azione di questi vandali Che hanno agito In modo del tutto gratuito La denuncia è stata fatta Ai carabinieri Disturbi Alla quiete pubblica Si ripetono Nei fine settimana Nel tratto sud Della strada Nel tratto sud Appunto di Via Nolfi Poi Parcheggio affidato Al Conad In cambio di pubblicità Siamo a San Lazaro Primo esempio concreto Di cittadinanza attiva Nella cura Delle aree pubbliche Del verde Poi la cronaca Da Galo di Petriano Dei funerali Di Laura Folla per l'addio a Lalli Fiori bianchi E messaggi per tutti Chiesa di Santa Maria Gremita Per l'ultimo saluto A Laura di Sciullo Vent'anni Morta nell'incidente All'alba di Domenica La celebrazione È stata ufficiata Da Don Felice E Don Augusto In un clima Di grande sobrietà A cui talvolta Si accompagnavano Solenni canti Del coro di Maria Immacolata Vedete il corteo qua Don Felice ha detto Riprendete in mano La vostra vita E fatevi aiutare Da questa nuova stella Che adesso Brilla in cielo Ed eccola qua La foto Di Laura Quando ancora era Su questa terra Il sindaco Con il suo sorriso Dice Ci illuminava Fabrizioli Questo è il cognome Del sindaco Del paese Affranto Anche perché Già tre vite Sono state spezzate In questo inizio Di D'anno 2017 Ora Dice il sindaco Stiamo vicini Ai genitori Torniamo a Fano Caus e disagi Nel quartiere Poderino Assediato dal traffico Le conseguenze Dell'interquartiere Aggravate Dai cantieri Che sono ancora Aperti Poi dalla valle Del Cesano Tributi Equità Ed efficienza Con la gestione Associata E con gli obiettivi Del servizio Condiviso Da terre roveresche Colli Al Metauro E dal comune Di Cartoceto Senigallia Il bagno diventa Camera da letto Blizze della polizia Municipale Nelle case Di Cesano E Cesanella Scoperti Abusi Edilizi E subaffitti Inquilini Irregolari E allerta Anche per il casolare Di via Cellini E gli stranieri Che lo affolano Centro pagina Invece La fotografia Del motorino Della moto Di Francesca Dopo l'incidente Francesca Olivi 39 anni Rimasta Gravemente ferita Domenica In un incidente Stradale E ancora ricoverata Nel reparto Di rianimazione Dell'ospedale Di Torrette L'ultima pagina È quella di Pesero Per il bilancio Della polizia Nella giornata In cui ha celebrato Ieri in piazza 20 settembre Poi dentro Al teatro La fortuna Il 165esimo Anniversario Della fondazione Sequestrati 2012 Chili di droga Il questore Dice Ci siamo sempre Al teatro La festa annuale Della polizia Segno di vicinanza Ad una città Laboriosa E dal senso civico Che chiaramente È in questo caso Fano Scelta in tutta la provincia Per la festa Espulsi 100 immigrati Clandestini Rilasciate 1680 autorizzazioni Al traffico legale Di armi Poi tutti i numeri Sotto assegnati Incomi E lodi Per indagini E soccorsi Consegnate Benemerenze Ai cittadini Autori di segnalazioni Efficaci Al 113 Non c'è altro La nostra segna stampa Dunque termina qui Grazie per averci Seguito Questo è il numero Di telefono Da utilizzare Da tenere Sempre a portata di mano Sul vostro telefono Per le vostre segnalazioni Noi ci vediamo stasera Alle 20 e 30 Con occhio alla notizia Buona giornata Grazie a tutti